Perché c'è l'immigrazione? L'immigrazione c'è perché noi andiamo nel terzo mondo, prendiamo questi paesi, li prendiamo alle terre a prezzi stracciati, le trasformiamo in monoculture per fare i mangimi degli animali che ci mangiamo in Italia. Noi non produciamo qui tutti i mangimi, noi importiamo oltre l'80% dei mangimi dall'estero, dai paesi poveri che sfruttiamo, che potrebbero coltivare il loro cibo, e invece questi paesi sono coltivati a fare monoculture per la soia e i cereali. L'ONU ha detto che ci saranno entro il 2050 un miliardo di migranti climatici. Questo vuol dire che te per quanto puoi spingere uno o due o tre barconi, tra qualche anno si parlerà di milioni di immigrati in Italia. Quindi la soluzione che riporta lui è esatta. Noi dobbiamo fare dei d'accordo con questi paesi e fare dei piani di sviluppo e in un po' spingere due o tre barconi. Cioè voi state prendendo tempo di un problema che sarà sempre peggiore. Invece la sua soluzione è una soluzione alla radice. Quello che dice lui è perfettamente esatto. Lui ha detto che lasciamo entrare tutti. Lei non ha detto questo, ha detto di dialogare con questi paesi e creare dei piani di sviluppo. L'Africa è il continente più ricco al mondo, non ha bisogno di noi per crescere. Cioè il problema è che tutti vanno in Africa a rubare le risorse e poi loro vengono qui perché ovviamente noi l'abbiamo tolto tutto.